Nel fine settimana sulla regione affiorano in quota correnti fredde settentrionali che porteranno anche aria più secca. L'aera fredda si affermerà su pianura e costa all'inizio della prossima settimana. Per quanto riguarda la giornata di sabato avremo cielo sereno poco nuvoloso su tutta la regione per qualche velatura in quota, temperature minima intorno ai meno 2 in pianura, 3 gradi positivi sulla costa, massime intorno agli 8-9 gradi su pianura e costa. In quota freddo con zero termico intorno ai 600 metri circa. Per la giornata di domenica avremo una situazione di cielo sereno poco nuvoloso ancora per qualche velatura ad alta quota, temperature minime in pianura intorno ai meno 4 sulla costa intorno allo zero, massime intorno ai 6-7 gradi sulla pianura e sulla costa. A 2000 metri 15 gradi sotto zero, quindi lo zero termico sarà a circa 400 metri di quota e sui monti farà piuttosto freddo, specie di notte. All'inizio della prossima settimana avremo ancora bel tempo con freddo che sulla pianura potrà determinare temperature massime di 4 gradi positivi durante il giorno, mentre le minime saranno intorno ai meno 5. Sulla costa valori minimi probabilmente intorno ai meno 1 gradi, massime simili a quelle della pianura intorno ai 4 gradi. Dall'osservatorio metri regionale dell'ARPA un saluto da Marcellino Salvador. Dall'osservatorio metri regionale dell'ARPA un saluto da Marcellino